Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo dei Garmont Ascent GTX, uno scarpone da alpinismo trekking semiramponabile con una bella tomaia, bella spessa, di cui adesso naturalmente vediamo i pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo come al solito a parlare delle caratteristiche di questi Garmont Ascent. Per quanto riguarda la suola, troviamo una suola Vibram Nepal con un tassello neanche tanto alto. Intersuola invece rigido, come dicevo, con la possibilità di essere semiramponato. Una tomaia in Nubuk, pensate spesso a 1.8 mm. E per quanto riguarda il peso, parliamo di 650 grammi nella taglia 42. Adesso che abbiamo visto le caratteristiche, iniziamo con i pregi e difetti. Partiamo come al solito dalla suola. Come vi dicevo, troviamo una suola Vibram Nepal, appositamente studiata per questo tipo di scarpone. È una suola che lavora bene, ha un ottimo grip su roccia, non mi ha convinto tanto su fango, perché comunque i tasselli non sono così pronunciati e soprattutto non sono neanche tanto distanziati, quindi sul fango si tende un po' a scivolare. Però il grip su roccia è veramente ottimo. La cosa che non mi ha convinto di questa suola è che manca una vera e propria climbing zone nella parte anteriore. Troviamo, diciamo, una specie di climbing zone, però la gomma che la compone ha delle scanalature all'interno che la suddividono in diverse parti. E vi assicuro che se doveste fare qualche via ferrata, magari molto naturale, dove c'è da progredire su placca, quindi proprio in aderenza, in quel caso lì si sente che una climbing zone manca. Quindi diciamo che sicuramente con una climbing zone questo scarpone sarebbe andato meglio. Naturalmente poi la suola è molto durevole, è una suola che può durare tanto nel tempo e per questo tipo di suole Vibram garantisce anche la risuolatura, quindi volendo possiamo allungare ancora di più la vita dello scarpone. Continuiamo e possiamo parlare dell'intersuola. Come vi dicevo troviamo un'intersuola semirigido con un inserto semiramponabile nel tallone. Questi Ascent con rampone lavorano abbastanza bene, sono semirigidi, quindi comunque non potremo andare a fare passaggi troppo tecnici. Diciamo che possiamo fare una classica camminata su ghiacciaio e non andrei oltre, però comunque in generale ci può stare. L'unica cosa è che l'intersuola non è così alto, non è così amortizzante, quindi se dovete utilizzarlo per giornate di trekking in cui non prevedete magari dei passaggi tecnici, lì alla fine della giornata potreste avere il piede particolarmente stanco. Ma passiamo a parlare del lato Maya, della parte superiore di questi Ascent iniziando al puntale. Beh naturalmente è un puntale bello strutturato, bello rigido, un puntale che potete prendere a calci le rocce e non sentirete assolutamente nulla. Mi piace poi tutto il fascione gommato che corre fino alla metà del piede, che compone il nostro puntale, che va a dargli ancora più struttura e soprattutto durabilità nel tempo. Puntale che poi va a proteggere tutta la tomaia in pelle Nubuk, vi assicuro una tomaia molto molto calda. Spessa 1.8 mm questo scarpone, ma poi lo vediamo dopo dove è meglio utilizzarlo, quando è meglio utilizzarlo soprattutto, vi assicuro è uno scarpone molto caldo. Molto caldo e la trasferabilità è veramente ridotta all'osso, quindi in generale comunque è uno scarpone magari più pensato per le stagioni un pochino più fredde. In sé poi la pelle comunque è abbastanza durevole, io l'ho utilizzato tanto, l'ho utilizzato anche su tanta roccia per vedere un po' come si comportava e non ha nessun intaglio. La pelle sta durando molto bene nel tempo. Concludendo, parlando della fodera esterna, troviamo una membrana Ingoretex che gli garantisce impermeabilità e vabbè, da questo punto di vista sicuramente non ci sono problemi che possa entrare acqua all'interno. Continuando a parlare del tallone, beh come vi dicevo abbiamo un inserto semi rampolabile nella parte inferiore e poi un tallone abbastanza classico, bello strutturato nella parte inferiore che va a diventare soffice. Pian piano che passiamo nella parte superiore del collo dello scarpone, mi è piaciuta molto l'imbottitura, uno scarpone veramente molto 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 imbottito, sicuramente con uno scarpone di genere non avrete problemi di prendervi storte. Però vi assicuro che anche nei passaggi un pochino di traversi sostiene molto bene, soprattutto non ci sono zone di pressione, non è uno di quegli scarponi che rischiate che vi faccia venire le sciche per intenderci, è fatto molto bene. Arrivando a parlare di allacciatura e linguetta, troviamo una linguetta bella imbottita, tipo molto classico, funziona bene, protegge molto bene dalla pressione dei lacci, resta ferma. L'allacciatura classica, mi piace che arrivi bella in punta, a pochi centimetri dal puntale, proprio per avere un'allacciatura precisa anche nelle zone un po' d'arrampicata e in sé anche i lacci lavorano bene. Per quanto riguarda l'allacciatura e linguetta, Garmont è andata molto su un classico. Infine per quanto riguarda la soletta, questa è proprietaria Garmont, io mi sono trovato abbastanza bene, è removibile se voi volete andare a inserirci una vostra soletta personalizzata, ma in generale mi sono trovato bene, non andrei a cambiarla. A livello di calzata, come calzano questi Garmont Ascent? Allora, io li ho trovati un pochino larghi, nel senso non è sicuramente uno di quegli scarponi che quando mettete dentro il piede sentite un fit molto calzante, molto preciso. Ammetto che io ho dovuto stringere abbastanza i lacci per far sì che lo scarpone andasse a chiudere molto bene il piede, quindi in generale non dico che sia wide, cioè proprio nel caso abbiate una pianta di piede molto larga, però non è neanche quel classico scarpone d'alpinismo dove tendenzialmente magari è meglio prendere una taglia in più. Secondo me per questo scarpone potete prendere tranquillamente la vostra taglia normale e se avete qualche millimetro in più può andare comunque bene. Ma quando e dove è meglio utilizzare questi Garmont Ascent? Allora, come vi dicevo, questi scarponi con questa tomaia così calda è meglio utilizzarli durante delle giornate abbastanza fresche. Secondo me sono degli scarponi tre stagioni, dove la terza stagione però è l'inverno, quindi diciamo autunno, inverno, primavera. Eviterei la parte d'estate, perché almeno che voi non andiate a fare dei 4.000 in giornate particolarmente fredde, risulteranno degli scarponi molto molto caldi. Non vi consiglio tanto per vie ferrate, perché comunque, come dicevo, non sono molto stretti, quindi può risultare un po' un problema quando vi andare ad arrampicare e oltre perché non c'è una vera e propria climbing zone e vi assicuro che, come dicevo, quando dovete andare d'appoggio con la punta su placca, lì si sente che manca. Quindi, secondo me, questi qua sono molto molto buoni per fare magari delle progressioni su ghiacciaio, per fare un po' più verso il trekking impegnativo oppure alpinismo classico. Arriviamo dunque alle conclusioni per questi Garmont Ascent. Ve li consiglio? Sì, sinceramente sì, per fare dell'alpinismo classico o del trekking impegnativo, come vi dicevo, sono molto molto buoni, soprattutto sono molto caldi e questo so che molti di voi lo apprezzeranno. Vengono venduti a un prezzo ufficiale Garmont di 220€, in giro online si trova sui 160-170€, quindi anche il prezzo ci può stare. Il prezzo è più che consono per il tipo di scarpone che andremo a comprare. Detto ciò, ragazzi, io nella speranza sia stato esauriente e esaustivo anche per questa recensione, io vi ringrazio per l'avere la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!